Era troppo bassa Grazie a tutti 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 Visto che c'è un bellissimo violino qui E io volevo fare un brano in re minore Se magari il maestro mi vuole seguire È famosissimo che è la Ciarda di Monti Oh ma che spettacolo Voi cercate di organizzarvi per seguire il maestro Focolari Avvio Focolari Vediamo come viene, vediamo come viene, vediamo come viene, eh Grazie a tutti 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 Grazie a tutti